Stanno girando, dai! Ora hai tirato, io devo trovare l'uomo! No, perché non riesci a tirare! Vedi il metro, vedi! Pronto, veloce! Sei là? Vai giù per la strada, vai giù! Non sono passate adesso, vai! Fai il giro di là... Non sono passate! Porco il cane! E lì sta prendo per il serbatoio le gomme, adesso ha preso con la fianco eh! L'Y bianca ha preso! Quasi peccato non averla lì! Non abbiamo cinque! E anche ha preso quella a fianco! Tutto e due! Ma anche l'altra! Basta! Ho preso anche le altre due! Sono passate! C'è ma mezz'ora che sento le sirene! Dove cazzo sono? Mezz'ora che sento le sirene, Mario! Se lo si ripigliano! E tre sono andate di macchina! Eh sì, tutte e tre! Tutte e tre sono andate di macchina! Se lo si ripigliano... Se lo si ripigliano... Non mi sembra che se lo si ripiglia! Non mi sembra che se lo si ripiglia! le gomme, non esplode se vado solo nei film e esplodono le macchine no vabbè sanno cosa vuol dire che non era prima no vabbè no vabbè no vabbè grazie 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 Grazie.